Dovunque, in tutto il mondo, centinaia o migliaia di milioni di individui, tutti uguali, ignari dell'esistenza di altri individui, tenuti separati da mura di odio e di bugie, eppure quasi gli stessi. E il tempo in cui viviamo, una geniale profezia di Orwell, contenuta nel libro 1984, divenuta ormai una triste realtà. Una realtà che hanno voluto mettere in evidenza i manifesti affissi dalle mascherine tricolori presso diverse attività commerciali di Lecce. Potenza di fuoco è, vi concediamo una settimana, sono i testi che accompagnano il ritratto del Premier. Le sue promesse e le sue intimidazioni possono essere riassunti in queste due frasi emblematiche, si legge nel comunicato stampa del Movimento. Da una parte, continuano, i lauti aiuti promessi da Conte, nelle sue celeberrime apparizioni in tv, non sono mai arrivati. E dall'altra, gli investimenti per mettere in sicurezza i locali posti in essere dagli esercenti non sono serviti a salvarli da una nuova chiusura. Il lockdown per loro è arrivato, così per buona parte della nostra economia. Il governo ora desidera che ognuno di noi sia un grande fratello che spia il proprio vicino, concludono le maschine tricolori. Noi invece vi diciamo, ci incontreremo là dove non ci sono le tenebre.